Ma tu, un lavoro ce l'hai? Si. E che lavoro fai? Sono nella cassa di maestro Falasco. E chi è questo Falasco? Come andiamo maestro? Allora mi pare che ci siamo tutti, eh? Mo ci siamo tutti. Fausto Charamella, questo un giorno diventerà uno spaccino i guitarristi, eh? Bravo Fausto! Addio Granada, paese di mille toreri Certo che fai il musicista, no? Vero? Come tutti gli altri. Raffaele ci deve dare ancora tutti gli arretrati. Vabbè, andate per qua, quelle che li dà. Stavo ti dando pure una cosa rossa, mi dà pure l'interesse. Viene da Milano con tutta la sua orchestra. Trenta persone, tutti professionisti, eh? Scusate, voi per caso siete Augusto Riverberi? E state ancora con Ornella Bannoni? Amore fermati Questa sera non andartene Ma che ti sto facendo crescere i baffetti? Sai che ci saresti bene? Tra le nuvole la tua canzone suonerà Sai cosa ci vorrebbe? Un bello sciopero dei musicisti. Così almeno la gente capisce una volta per tutte come la vita senza la musica. Siamo soli, amore, baciami Forse è colpa della musica Ma non ti ho amato mai così E ciò basta come la musica E ciò basta come la musica